Il Movimento 5 Stelle conferma la sua distanza dagli altri poli, chiede attenzione alle sue uniforme a partire dal reddito di cittadinanza. Quello tra Renzi e Berlusconi è l'ennesimo siparietto, quello di lasciarsi e riprendersi perché in realtà il patto del Nazareno è vivo più che mai con l'unico obiettivo loro di avere una legge elettorale antidemocratica in modo che loro due possano decidere tutte le sorti dei cittadini dalla A alla Z.